Li abbiamo qui con noi. Li abbiamo qui con noi, una parte almeno della band. Monkey, Jonathan Davis e Fildy. Eccoli qua. Belli come il sole. Belli come il sole, un po' sballafreschi mica tanto. Prego, prego. Però belli come il sole. Tapacci pal culo, tapacci pal culo. Bene, vedo Jonathan Davis, ragazzi. Jonathan è molto più fuori. Uno dei cantanti più originali degli ultimi vent'anni. Sì, io direi che i Korn hanno un po' inventato un piccolo genere, no? È qualcosa che non si sentiva. Però lo vedo particolare. Ci ho sballato duro, ragazzi. Ah, ecco. Sballatissimo. Rock TV, solo su Sky, canale 718.